Grazie a Vittorio, credo di essere stato il primo pratico presidente che ero dell'ANEC a credere a questa manifestazione era una manifestazione che abbiamo iniziato per sempre, se non vado errato, perché c'era ancora il mercato intorno quindi posso assicurare che era una location molto, ma molto, ma molto faticosa da gestire credo che non è ancora rimasto, quindi diciamo che ci credo, ci crediamo, è un'associazione siamo stati i primi, poi i presidenti dell'associazione cambiano, ma poi è la fine di Maria Uovo voglio ringraziare la presenza di Lorenzo Bonaccorzi, la Regione, la Regione per la grande attenzione che dà al cinema, sia con l'aiuto alle produzioni, sia l'aiuto per la promozione del cinema e anche l'aiuto, devo dire, alle sale, perché?